Ciao facciulle, bentornate nel canale! Prima di cominciare a raccontare tutto quanto vi chiedo scusa per i miei capelli come ben sapete li sto facendo crescere il più possibile in vista del matrimonio quindi al momento non hanno una forma, non hanno un senso, non piacciono neanche a me quindi chiudiamo parentesi ed evitiamo ulteriori commenti oggi sono qua per fare questo video che non vedevo l'ora di girare assolutamente era da tanto tempo che aspettavo il giorno in cui avrei girato questo video e vi avrei parlato di lui, di come ho ricevuto questo anello di come finalmente Simone ha deciso di chiedere la mia mano quindi la proposta di matrimonio, una cosa bellissima uno dei momenti più belli nella vita appunto di una donna, di una ragazza e solamente a ripensarci adesso mi vengono gli occhi a forma di cuoricino e mi emoziono perché è stata veramente un'emozione grandissima poi quando le cose appunto non te le aspetti e le cose belle ovviamente dopo rimani appunto folgorata quindi è stata una bellissima esperienza una bellissima serata e non vedevo l'ora di condividere con voi i dettagli e i particolari della mia proposta di matrimonio allora che cosa vi posso dire? vi posso solamente dire che è stato tutto bellissimo che Simone è stato veramente bravissimo non mi sarei mai aspettata che lui potesse organizzare una cosa così articolata ma perfetta e pensata in ogni minimo dettaglio soprattutto perché ha fatto tutto a distanza perché la proposta di matrimonio è avvenuta a Milano eravamo a Milano in quei giorni perché avevamo chiesto un po' di giorni di riposo dal lavoro per staccare un po' come sapete io sono di Milano i miei parenti a Milano quindi ogni tanto mi piace tornare su Milano per vivermi un pochettino la città per rivedere alcune amiche per rivedere alcuni parenti, alcuni cugini quindi ne abbiamo approfittato e la cosa bella è che in quei giorni cadeva proprio il nostro anniversario quindi il 24 di novembre per noi è una data importante perché è il giorno del nostro anniversario ma adesso l'è diventata perché è stato anche il giorno della proposta di matrimonio infatti festeggiavamo nove anni di fidanzamento e Simone ha pensato di festeggiare non solo appunto per l'anniversario ma ha pensato anche appunto di buttarci dentro la proposta di matrimonio che mai e poi mai mi sarei aspettata potesse avvenire in quel contesto e quella sera è stato tutto bellissimo perché mi ha portato in un hotel bellissimo con all'interno delle suite ogni suite era adobbata in modo diverso aveva un tema diverso la nostra era la suite dalle mille a una notte quindi era tutto bello magico, romantico tutto in stile arabo il letto a baldacchino tutti questi disegni arabeggianti color oro, color sabbia veramente bella, bellissima un bagno enorme e all'interno anche una vaschetta un massaggio tutta per noi da poter utilizzare tutto il tempo che volevamo quindi aveva creato veramente una serata fantastica scusatemi per la voce ma come sapete non sto bene e quindi ho giù un pochettino la voce e quindi io sono rimasta colpita perché non pensavo potesse organizzare qualcosa del genere non mi aveva detto assolutamente niente fino al giorno prima quindi non avevo la più pallida idea di che cosa aspettarmi ma la parte più bella la parte appunto emozionale è arrivata dopo nella sera appunto al momento della cena ha organizzato una cena a lume di candela solamente per noi bellissimo e ci hanno allestito appunto una sala all'interno dell'hotel solamente per noi con questo tavolo ovale con queste candele i petali di rosa per terra tutte le lucine nel perimetro della stanza eravamo all'interno della torretta perché questo hotel dove mi ha portato Simone è fatto a forma di castello e loro hanno adibito appunto la nostra tavola all'interno di questa torretta quindi eravamo circondati da tutte queste finestre con gli archi e tutte queste lucine e ragazzi voi non potete immaginare quando il cameriere personale perché avevamo un cameriere a disposizione solo per noi ha aperto la porta e io ho visto tutto quello mi sono commossa solamente a vedere che cosa Simone avesse voluto ricreare per noi quale atmosfera avesse voluto appunto per noi quella sera ed è stato veramente molto bello per me poteva finire anche solo lì la mia sorpresa poteva essere anche solamente quella e invece ovviamente poi non si è affermato solamente a questo avevamo appunto questo cameriere che ci portava alle nostre portate una cena completa dall'antipasto aperitivo fino al dolce ci portava tutte le pietanze su dei piatti coperti da delle cloche ci lasciava nella nostra intimità prima di entrare bussava insomma veramente bello un servizio veramente bello ci siamo sentiti proprio coccolati cioè ci sembrava veramente di essere un re e una regina in sottofondo musica romantica musica dolce e non potevo chiedere di più veramente se non fosse che non stavo bene anche in quel contesto perché ero messa abbastanza maluccio però la serata era veramente fantastica l'unica cosa che un pochettino mi insospettiva era vedere Simone mangiare poco che non è assolutamente una cosa da lui perché lui è una buona forchetta e mangia sempre abbastanza porzioni molto abbondanti invece quella sera vedevo che si limitava ad assaggiare un pochettino le cose e mangiava quasi meno di me che è veramente impossibile e insomma l'atmosfera e la situazione vedere Simone agitato così un pochettino mi ha insospettito ma la cosa che mi ha fatto pensare che potesse essere il momento finalmente che tanto attendevo è stato quando gli avevo chiesto se mi prestasse la sua giacca perché avevo freddo non sentendomi bene avevo bisogno di coprirmi un pochettino di più e quando gli ho chiesto mi dai la tua giacca che ho freddo sono un attimo pietrificato poverino perché l'ho preso alla sprovvista di sicuro e mi risponde no la giacca non te la posso dare però uno può pensare magari aveva freddo anche lui e se la voleva mettere lui e invece no perché la giacca è rimasta appesa allo schienale della sedia quindi noi donne che siamo molto perspicaci ho pensato perché non mi vuole dare la giacca probabilmente sta nascondendo qualcosa all'interno che non mi vuole far vedere subito però siccome era da tanto tempo che io aspettavo che sta proposta di matrimonio non arrivava mai ho detto Joe non farti film per niente non ci pensare perché se poi non succede neanche questa volta ci rimane male e invece ragazze è successo perché nel momento appunto del dolce Simone ha fatto finta di andare in bagno a lavarsi le mani e nel frattempo c'è stato anche un cambio di musica mi è entrato il cameriere un attimo di soppiatto per cambiare la musica ed è partita la canzone celebre famosissima di Bruno Mars Mary You e voi non potete immaginare quando io ho sentito le campane all'inizio appunto della canzone ragazze ciao mi sono guardate intorno mi si è stampato un sorriso a 34-50 denti non so quanti denti abbiamo ed è stata un'emozione unica perché è entrato lui con questo carrello delle portate con dei piattini con una torta e su questa tortina c'era scritto mi vuoi sposare e è stata veramente un'emozione fantastica io non ci potevo assolutamente credere era da tantissimo tempo che io aspettavo la proposta di matrimonio avevo provato a fantasticare in tantissime volte su come potesse accadere dove come quando ma mai e poi mai avrei immaginato che quella sera potesse essere la sera in cui Simone appunto si inginocchiasse davanti a me sulle note appunto di Bruno Mars che è uno dei miei cantanti preferiti e quella canzone io gliel'avevo chiesta non so quante volte ogni tanto gli faccio un po' lavaggio del cervello guarda che quando ti deciderai io due cose vorrò la canzone di Bruno Mars che tutti inginocchi come si faceva in tempo e lui è stato molto bravo perché mi ha accontentato sotto tutti i punti di vista e si è inginocchiato appunto davanti a me e mi ha dato appunto l'anello che questo qua è un anello di Pandora e io sono stata felicissima ragazzi mi sembrava di vivere un sogno quando mi sono ritrovata lui davanti a me emozionatissimo con gli occhi che gli brillavano con la voce che non gli usciva neanche è stato veramente fantastico non ci potevo credere non sapevo più se guardare l'anello se guardare lui se non sapevo assolutamente niente ma è stata veramente una delle sensazioni più belle che io abbia mai provato e tant'è che quella notte non siamo neanche riusciti a dormire non siamo riusciti a chiudere occhio perché avevamo talmente tanta adrenalina in corpo non ci potevamo credere di aver finalmente concretizzato la nostra storia d'amore con questa proposta di matrimonio che non siamo riusciti a dormire ma è stato bello lo stesso non riuscire a dormire dall'emozione e dalla gioia e quindi ecco questo appunto è come è avvenuta la proposta di matrimonio ovviamente ho cercato di sintetizzarlo un pochettino perché raccontare tutto nei minimi dettagli avrebbe richiesto un video lunghissimo però ci tenevo a condividere con voi appunto questa esperienza bellissima della mia vita come sapete vi porto sempre con me e vi mostro appunto tanti aspetti della mia vita e insomma questo che è uno dei momenti più belli della mia vita ci tenevo appunto a raccontarvelo e a condividere spero che un pochettino vi siate emozionate anche voi io spero che questo video vi sia piaciuto spero di trovare tanti pollicelli in su vi mando un grosso bacio e ci vediamo e ci vediamo al prossimo video ciao